esattamente tre giorni fa che saranno quattro nel momento in cui andrai a guardare questo video ho presentato thorium browser definendolo il browser perfetto già dal giorno dopo però alcuni membri della community lo definivano eccezionale e qualcun altro ha sollevato qualche perplessità come ben sai non sono mai sordo agli appelli della community e sono andato ad investigare su ciascuna di queste perplessità mettendo nel frattempo in stand by tutti quanti gli altri utenti avvertendoli che probabilmente era necessario qualche ulteriore controllino e allora non perdiamo tempo e andiamo a vedere che cosa ho scoperto su thorium browser ti senti pronto iniziamo cosa succede quando qualche membro della community mi chiede di presentare un software oppure quando io stesso trovo qualche software che ritengo sarebbe interessante farti conoscere bene il primo passo è sempre quello di andare a visitare una serie di riviste di settore che si occupano appunto di software e fanno delle recensioni anche e soprattutto sui software liberi quelli gratuiti che abitualmente ti propongo se queste recensioni sono generalmente positive se non vengono segnalati bug se non vengono segnalate vulnerabilità creo immediatamente una macchina virtuale vergine su cui vado ad installare e provare questo software esattamente come farebbe l'utente medio quello che ne valuto è la compatibilità con la maggior parte delle macchine e soprattutto l'usabilità di questo software per cercare di capire se sia abbastanza semplice per l'utente medio da utilizzare solo quando e se questa prova viene superata allora parte il vero e proprio test si tratta di una autopsia del software che eseguo con degli strumenti che non ti ho ancora mai mostrato ma che oggi voglio farti vedere per la prima volta per sincerarmi che non ci siano garbole nascoste quello che invece non faccio è andare a vedere video di altri youtuber per evitare di farmi influenzare dai pareri altrui e proporre sostanzialmente una fotocopia di qualche altro video questo non toglie che successivamente non vada a fare questa controprova e non vada a vedere i video degli altri colleghi più gravi di me per imparare anch'io qualcosa di nuovo e proprio facendo questa controprova il giorno dopo mi sono accorto non senza un filo di orgoglio che un mostro sacro dell'informatica che risponde al nome di Chris Titus e di cui sono un accanito fan ciao Chris spero che prima o poi guarderai uno dei miei video aveva recensito entusiasticamente anche lui Torium Browser ma detto questo e come ho anticipato nell'apertura di questo video quello che voglio mostrarti oggi è che cosa è saltato fuori dalle prove su Torium Browser mi scuso a priori se questo video sarà un attimino più tecnico rispetto al solito ma visto che stiamo parlando appunto di informatica e di tecnica è opportuno scendere un pochino più nel dettaglio sono certo che avrai sempre notato nei miei video precedenti la presenza di questa cartella misteriosa sul mio desktop quella che si chiama ok vai a guardare tutti gli altri video e troverai sempre questa cartella sul mio desktop ma perché perché ogni volta che creo una macchina virtuale la creo sulla base di un'immagine predefinita che contiene già questa cartella misteriosa ma per la prima volta nella storia rullo di tamburi andiamo ad aprire questa cartella e vediamo che cosa contiene ed eccoci qua questa cartella contiene altre cartelle misteriose che sono antivirus cross check programmazione compilazione e ricerca bug test tools e infine una burn in macro oggetti tutti quanti sicuramente molto misteriosi ma che andiamo a spiegare nel dettaglio la prima cosa che faccio quando testo un nuovo programma e fare un controllo incrociato antivirus con gli strumenti che ho in questa prima cartella vengono interpellati contestualmente un po come fa virus total una serie di antivirus ed anti malware che vanno a controllare che il file che ho appena scaricato e che sto per mettere sul sito della community non contenga alcun genere di infezione naturalmente lo stesso controllo lo effettua anche ma con criterio con virus total e per con criterio intendo dire che se 60 antivirus analizzano un file che i miei antivirus mi hanno già detto che è pulito e due dicono che potrebbe contenere un'infezione mentre gli altri 58 sono concordi nel dire che non c'è nessuna infezione possiamo agevolmente iniziare a concludere che quel file non sia affatto infetto successivamente vengono in gioco questi strumenti programmazione compilazione e ricerca bug questo è un pochino più complicato da spiegare ma cerchiamo di capirci andiamo infatti proprio con thorium ad effettuare una ricerca su thorium browser stesso ci accorgiamo che oltre al sito da cui ti ho consigliato di scaricarlo per semplicità esiste un po più in basso anche la pagina github di alex 31 30 31 che è il creatore il programmatore che ha creato thorium per la precisione come puoi vedere qui ci sono tutti i cosiddetti file sorgenti di thorium che cosa sono i file sorgenti quando un programmatore scrive un nuovo programma lo scrive in un linguaggio che non è lo stesso che il computer va ad eseguire tutti questi file vengono successivamente si dice compilati e creano il file eseguibile cioè il file che tu vai a scaricare nel momento in cui vuoi installare il programma perché il file eseguibile è direttamente appunto eseguibile dal computer stesso mentre gli altri file servono più dalla parte umana per andare a scrivere il programma ebbene quello che faccio è andare a fare con la santa pazienza un check anche dei file sorgenti per vedere che il programmatore a monte non abbia inserito qualcosa di strano nel suo programma quindi in linea di massima nel momento in cui arrivo a presentarti un programma sappi che questa cosa per quelle che sono le mie capacità ben inteso ma è stata già controllata ma non basta un ulteriore check che faccio è quello di andare a verificare tramite i miei strumenti che ci sia corrispondenza tra quello che il programmatore dichiara nei file sorgenti e quello che è il file una volta compilato e questo spiega questa seconda cartella per quanto invece concerne la terza cartella vorrei essere un pochino più preciso e quindi a rischio di annoiarti un pochettino mentre salvaguardo gli altri miei segreti del mestiere questa te la faccio anche vedere aperta come puoi vedere qui dentro ci sono tre programmi che sono wireshark registry changes view e install monitor partiamo proprio da questo che è forse uno dei più semplici da spiegare quando io apro install monitor posso trovare tutti i programmi che sono installati sul mio computer questo perché perché install monitor gira in background quando installo uno dei programmi che mi serve presentarti e monitora ogni singolo passo che questo programma fa ma siccome un esempio vale più di mille parole ti faccio vedere esattamente che cosa va a fare thorium su un computer ci basta cliccare con il pulsante destro sul programma che ci interessa e che è stato monitorato durante l'installazione per andare a scegliere la voce show contents nella voce show contents andrò a vedere perfino i file temporanei che questo programma è andato a creare tutte quante le cartelle in cui è andato ad agire che cosa è andato a fare per esempio in questo caso ha creato un link in questo caso ha creato un registro di installazione e così via sul desktop mi ha creato l'icona di thorium che tu vedi è andato ad agire su queste chiavi di registro e così via quindi questo già basterebbe di per sé a farmi capire che cosa fa un programma nel momento in cui viene installato ma siccome la prudenza non è mai troppa il controllo incrociato che vado a fare è anche un altro ed utilizzo questo software quello che si chiama registri change view cosa fa esattamente diciamo che scatta una fotografia del registro di sistema quindi dello stato di tutte le chiavi del registro di sistema nel momento in cui io gli chiedo di creare appunto un registri snapshot con questo pulsante in questo caso tuttavia io non sto scattando una fotografia ma semplicemente per farti vedere che l'ultima fotografia che ho scattato con questo programma è stata scattata il 5 di novembre del 2023 e cioè il giorno prima che io ti presentassi thorium browser questo perché perché è stato il test che ho fatto su thorium browser prima di installarlo ho scattato questa fotografia e successivamente sono andato a fare un controllo ti faccio vedere come funziona si selezionano tutte quante le chiavi di registro io come vedi le tengo selezionate tutte tutte e si schiaccia su ok il la finestra che esce ci mostra tutto quello che è stato modificato sul registro per mia fortuna le modifiche dopo che è stato installato thorium browser erano molte meno di quelle che vedi che sono tutte quelle che si sono accumulate invece su questa macchina nel frattempo tra avvi del sistema aggiornamenti e quant'altro quindi questo è il secondo controllo che vado a fare di questo gruppo di controlli qui ma non basta ce n'è ancora un altro mentre io utilizzo thorium browser non faccio altro che aprire questo programma qui quello che si chiama wire shark che è uno sniffer di pacchetti di rete ok è un po difficile da spiegare ma cerchiamo come al solito di spiegarlo semplice uno sniffer che cosa fa diciamo che è un osservatore di tutto il traffico di rete che entra e che esce dal computer non fa altro che prenderne nota su un registro funziona in questo modo io scelgo il mio adattatore di rete che in questo caso è ethernet perché come avrai notato nei video precedenti ho sempre un unico adattatore per mia semplicità per non diventare matto sui miei computer che è appunto questo adattatore qui che si chiama appunto ethernet come ti ho mostrato nel momento in cui io seleziono il mio adattatore di rete e vado a fare clic su questa pinna di squalo avvio come puoi leggere la cattura dei pacchetti che funziona esattamente in questo modo come vedi adesso non vengono catturati pacchetti perché non sto facendo niente sulla rete nel momento in cui vado ad aprire thorium e torno su wireshark vedi che comincia a catturare tutto quello che thorium fa entrare ed uscire dal computer insomma credo di fare dei controlli abbastanza approfonditi anche perché mi sento responsabile nel momento in cui ti vengo a presentare un programma visto che ci metto la faccia e ci metto anche il nome per cui capisco bene che agli occhi di un perfetto profano dire che faccio doppio clic su un file non vedo quello che succede e mi trovo un programma installato possa essere coerente ma agli occhi di un professionista questa cosa non è assolutamente accettabile sono arrivata invece da parte di alcuni membri della community delle segnalazioni estremamente pertinenti la prima di tutte è stata la difficoltà di installare thorium browser su macchine dotate di processori obsoleti oppure di sistemi operativi obsoleti infatti la procedura che ho mostrato io nel mio video era riferita solamente a macchine più recenti con processori aggiornati e che montassero sistemi windows 10 o windows 11 anche se ho all'uso nel corso del video alla possibilità di scaricare la versione per windows 7 quello su cui invece non sono stato effettivamente abbastanza chiaro nel corso del video è stata la necessità su macchine che appunto montano processori datati di scaricare la versione per processori avx 2 qualcuno inoltre mi ha riferito che sono aperte da questo browser delle porte non autorizzate ho pensato allora di aver fatto un lavoro non accurato ho ritestato sempre con wireshark che ormai conosci la stessa versione di thorium sulla mia macchina e assolutamente le porte erano sotto controllo per quello che ho potuto vedere e così ho pensato anche di testare altre versioni come quella a 32 bit e quella per windows 7 ma devo dire che assolutamente non sono riuscito con tutta la buona volontà a trovare nessuna apertura di porte non autorizzate da parte di questo browser quindi questa segnalazione devo bocciarla un'altra cosa che mi è stata riferita era che in alcuni casi andando a vedere proprio dei video youtube questi apparivano rossastri è vero ho dovuto fare una prova con diverse schede video cosa alla quale onestamente non avevo pensato nel corso del video e con alcuni driver e con alcuni abbinamenti con certe schede video effettivamente thorium browser non funziona correttamente un'altra segnalazione molto pertinente che è arrivata era relativa alle estensioni che vengono installate con thorium browser nel corso del video per questioni di brevità ho detto semplicemente che thorium blocca la pubblicità purtroppo a quanto pare lì mi sono sbagliato perché non la blocca come ho detto nel video in maniera mi sembra di aver utilizzato questo termine intelligente perché va ad utilizzare ublock origin che è proprio nel mirino di youtube e non solo di altri siti web che possono arrivare a bannare gli utenti che usano degli adblocker perché vivono appunto di pubblicità devo dire che a seguito di una richiesta del mio provider ho dovuto mettere un blocco degli adblocker scusa il gioco di parole anche sul sito www.gentiluomodigitale.it le altre estensioni che arrivano con thorium e che sono quelle che ti sto mostrando in questo momento vedo che si vedono tutte quante correttamente sono il pdf viewer di chromium quello standard i documenti di google standard li trovi anche in chrome e in tutti gli altri google hangouts che può interessare o meno ma è un prodotto google non è un prodotto di thorium ublock origin di cui ho appena parlato è il web store di thorium da cui è possibile scaricare giochi estensioni e temi per thorium questa potrebbe essere eventualmente discutibile ma l'unica estensione che di tutto cuore mi trovo costretto a bocciare nonostante quello che ho detto nel video è quella di ublock origin quindi commento approvato ma in realtà c'è un altro problema che non ha segnalato nessuno e che ho rilevato negli scorsi giorni e questo problema è davvero davvero importante l'aggiornamento di thorium non funziona in tempo reale una prova che non avevo fatto originariamente era quella di installare una vecchia versione e vedere quanto tempo ci impiegava ad aggiornarsi alla nuova ebbene non si è aggiornata e questo è secondo me il problema peggiore di thorium poco importa che gli aggiornamenti vengano pubblicati frequentemente dallo sviluppatore del browser perché questo purtroppo rende il browser decisamente poco sicuro se un utente inavvertitamente dimentica di fare manualmente un aggiornamento e viene scoperta magari una vulnerabilità zero day nei chromium e ci si trova con un browser completamente vulnerabile un'ultima critica un po banale che mi ha fatto sinceramente sorridere è stata quella che thorium è un browser poco utilizzato e che quindi non sia affidabile per questo motivo ricordo che se non avessimo avuto dei pionieri che hanno utilizzato linux non avremmo linux e che se non avessimo avuto dei pionieri che dal carro con i cavalli non avessero voluto provare l'automobile non avremmo nemmeno quella insomma provare qualcosa di nuovo sicuramente è sintomo di intelligenza e di apertura mentale rimanere confinati in ciò che è vecchio semplicemente perché è sicuro meno e siccome quando ci si diverte il tempo vola mi sono appena accorto di aver parlato per oltre 17 minuti quindi taglio cortissimo con la speranza di aver gettato un po di luce sulle ombre che ancora coprivano thorium browser ma non posso concludere questo video prima di aver fatto dei doverosissimi ringraziamenti ai nuovi abbonati della community che sono alberto romeo massimo traversa giorgio fontana daniela blasi paolo marchesi e gennaro mattioli vi ringrazio infinitamente e vi do il benvenuto nel club dei gentiluomini e detto questo l'ultimo ringraziamento come di consueto è rivolto proprio a te che mi hai fatto compagnia nel corso di questo video forse un pochino lunghetto e quindi non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima